Ciao, sono Giulio, sono uno dei bibliotecari di Ecomobile Library, questa bellissima biblioteca mobile. Ecomobile Library porta libri nei campi profughi della zona dell'arte e oggi, come tutti i martedì, siamo qua davanti a Corinto, al campo di Corinto. Se venite vi faccio vedere dentro, vedete che siamo costruiti tutto da noi, tutti gli scaffali, tutti i cassettoni, i cassetti e anche questa bellissima scaffalatura dove teniamo tutte le risorse per imparare inglese, tedesco, greco e francese. All'interno del furgone però c'è il nostro tesoro, cioè i libri. Abbiamo libri in inglese, libri in persiano, libri in arabo, libri in sorani, kurmanji, che sono le due lingue kurde e libri in turco e in molte altre lingue. Per continuare a portare libri in giro per l'alattica abbiamo davvero bisogno del vostro aiuto, quindi per favore se potete donarli. Ciao!